i derivati sono semplicemente degli strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di un sottostante sottostante che può essere sia di natura finanziaria che di natura reale natura finanziaria se è relativo per esempio azioni o titoli azionari di natura reale se è relativo materie prime per esempio come oro e petrolio quindi cosa significa significa semplicemente che il valore di un derivato deriva dal valore di una di queste cose quindi può derivare dal valore di un'azione può derivare dall'indice da un indice azionario può derivare questo valore da una materia prima sono numerose le tipologie di derivato che possono esserci inoltre una cosa importante da dire è che il derivato in sostanza è come un contratto è un contratto significa che può essere sia simmetrico che asimmetrico derivato simmetrico significa che alla scadenza entrambe le parti entrambi i contraenti dovranno svolgere una certa prestazione mentre invece nel caso del derivato asimmetrico solo una parte potenzialmente dovrà svolgere una certa prestazione significa che una parte avrà la scelta sul se esercitare o meno il derivato e questa parte che avrà la scelta sarà il compratore infatti il compratore pagherà un premio quindi pagherà un premio per acquisire questo tipo di diritto il venditore quindi sarà soggetto passivo in un certo senso alla scelta del compratore quindi ora possiamo chiederci ovviamente per quale motivo un investitore potrebbe decidere se comprare o meno un derivato ecco i motivi per cui comprare un derivato possono essere più di uno e sono per esempio per fini speculativi oppure ci possono essere fini di arbitraggio o fini di copertura quindi un investitore potrebbe utilizzare dei derivati per coprirsi dal rischio nel caso avesse già per esempio un portafoglio oppure potrebbe comprare o meglio fare compravendite di derivati per fini speculativi quindi per guadagnare da questa compravendita e infine arbitraggio quindi sostanzialmente approfittare di differenze di prezzo per fare degli esempi il caso delle opzioni parliamo di un derivato ovviamente di natura asimmetrica al contrario i future sono di natura simmetrica capito questo parliamo di dove andarli a comprare nel senso se noi vogliamo dei derivati quindi abbiamo capito come funzionano cosa sono perché eccetera eccetera quindi ora noi ovviamente li vogliamo comprare ok se noi vogliamo comprare dei derivati dobbiamo sapere che i derivati possono essere negoziati sia sui mercati otc quindi over the counter sia sui mercati regolamentati nei mercati regolamentati ovviamente avranno caratteristiche standardizzate per esempio per quanto riguarda la durata mentre invece nei mercati non regolamentati quindi otc avranno ovviamente molta più flessibilità per fare degli esempi nei mercati regolamentati possiamo trovare dei derivati come per esempio i future mentre invece nei mercati non regolamentati quindi otc possiamo trovare degli strumenti come per esempio i cfd che infatti sono uno strumento molto flessibile oppure i swap gli swap noi dobbiamo sapere che cosa compriamo quando ci approcciamo ai mercati finanziari quindi perché ho voluto fare questo video perché è importantissimo capire quando noi stiamo comprando per esempio un derivato regolamentato o meno perché perché se noi ci approcciamo per esempio al mercato senza sapere tutte queste cose noi rischiamo di andare a comprare magari dei cfd da un broker poco affidabile quindi questo può essere molto pericoloso proprio perché il cfd non è comunque regolamentato significa che noi cioè il cfd non è pericoloso di per sé cfd anzi non è pericoloso anzi è un ottimo strumento che è molto flessibile si presta molto bene alle nostre esigenze ma bisogna avere diciamo una piccola accortezza che l'altra una grande accortezza cioè quella di andare a fare compra 20 10 10 fd solo ed esclusivamente su broker estremamente affidabili estremamente solidi estremamente seri perché altrimenti c'è un altissimo rischio di prendere delle fregature durante la nostra attività di trading quindi è fondamentale sapere la differenza tra i vari strumenti anche per questo perché dobbiamo capire che tipo di strumento compriamo dobbiamo capire quali sono le eventuali garanzie che noi abbiamo e quali sono gli eventuali rischi quindi i rischi nel mercato finanziario i mercati finanziari purtroppo sono sempre presenti quindi dobbiamo conoscerli dobbiamo saperci tutelare da essi con questo io direi che è tutto io vi ringrazio per avermi ascoltato spero che il video possa esservi utile io in ogni caso sono disponibile a rispondere a eventuali domande nei commenti perché mi rendo conto che questo non sia un argomento semplicissimo soprattutto per chi non non mastica molto temi diciamo economici e in ogni caso vi ringrazio nuovamente vi chiederei di lasciare un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e grazie ancora ciao a tutti